ciao a tutti e benvenuti nel canale youtube della maschera riposta io mi chiamo mosè e questo signori è l'anticipazione della programmazione del mese prossimo del mese di giugno del 2023 ormai è diventata una sana abitudine del canale quella di anticipare il programma di massima per il mese successivo quando appunto sta per finire il mese corrente siamo alla fine di maggio del 2023 e quindi scopriamo cosa faremo assieme in giugno tra l'altro vi anticipo che giugno è l'ultimo mese prima della pausa estiva per così dire che non sarà una vera pausa perché il canale non va in pausa mai come forse sapete dagli anni precedenti è una pausa nel senso che in luglio e in agosto almeno questa è l'idea poi magari anche qui non sarà tutto luglio e tutto agosto ma insomma l'idea tendenzialmente è in luglio e in agosto dedicare il lunedì non alla presentazione di nuovi giochi da tavolo di espansione di giochi da tavolo ma a gameplay completi molti dei quali già girati quindi ci vedrete con dei maglioni pesantissimi ma insomma perché li abbiamo già li abbiamo già in gran parte girati gameplay completi fra me e martina di giochi che abbiamo già trattato sul canale ok quindi a partire da luglio quella sarà per quanto riguarda i giochi da tavolo la programmazione principale del canale ma non non diciamo andiamo troppo avanti e rimaniamo concentrati su giugno fatemi sapere che scusate vi faccio sapere che cosa che cosa faremo appunto nel mese di giugno e la prima cosa che vi voglio dire è che il giorno primo giugno questo l'ho già l'ho già annunciato in varie occasioni ma mi sembra giusto mi sembra giusto visto che è un appuntamento importante ripeterlo anche qua la sera del primo giugno e la sera del 15 giugno sono due giovedì sera alle ore 21 e 30 non su questo canale ma sul canale della tana dei goblin la tana dei goblin è la più importante associazione italiana che si occupa di gioco da tavolo divulgazione e come si può dire pratica del gioco da tavolo ecco sul canale youtube della tana dei goblin ci saranno questi due appuntamenti a cui io parteciperò come conduttore barra moderatore di questi due dibattiti che penso saranno veramente veramente interessanti quindi non volete perdervi per nessuna ragione al mondo dibattiti su un tema tra l'altro che ci sta molto a cuore e di cui abbiamo già dibattuto anche qua insomma internos nel nostro canale e cioè la divulgazione la divulgazione ludica l'informazione ludica la prima serata quella di quella del primo giugno di giovedì primo giugno sarà dedicata alla informazione ludica nel suo rapporto con il pubblico cioè verso il basso potremmo potremmo dire mentre invece la serata del 15 giugno sempre 21 e 30 non qui ma sul canale youtube della tana dei goblin sarà dedicata la comunicazione informazione ludica nel rapporto con i produttori nel rapporto con i realizzatori distributori diciamo delle opere delle opere dell'ingegno di cui ci occupiamo appunto quindi delle opere delle opere ludiche e ci saranno ospiti prestigiosi ci saranno ospiti importanti è già uscita la locandina per la serata del primo del primo giugno quindi non volete mancare assolutamente ci sarà asgaroth il capo redattore della tana dei goblin ci sarà sgananzium uno dei più celebri youtuber ludici ci saranno i copertici un grande twitcher che si occupa di giochi da tavolo ci sarà alessi olana che è un grande giornalista insomma ci saranno tante tante personalità importanti quindi veramente non volete perdervi non volete perdervi questa serata e non sono ancora stati annunciati gli ospiti per la serata del 15 giugno ma sarà sicuramente altrettanto interessante quindi ecco per prima cosa fissatevi sul canale scusate sul calendario queste due date anche se non riguardano direttamente la programmazione di questo canale però appunto ci sarà la partecipazione mia a queste serate come come moderatore barra conduttore quindi penso poi avrò anche la possibilità di dire la mia ovviamente figurati se non la dirò ok riguardo riguardo a questi temi quindi ovviamente non volete mancare per quanto riguarda invece la nostra programmazione cari amici vi voglio dire che lunedì 5 giugno parleremo della ultima espansione di tapestry che si chiama fantasies and futures guardate questo in realtà è il coperchio della scatola del gioco base perché questa espansione non ha una vera scatola abbiamo già fatto l'unboxing e vi ho già fatto vedere che non ha una vera scatola questa espansione perché è arrivata dentro una busta di cartone tipo i nuovi componenti sono arrivati dentro una busta di cartone riciclabile però ecco è stata pensata per essere contenuta all'interno appunto della scatola del gioco base quindi parleremo appunto di questa espansione perché tra l'altro prima vi ho detto che in estate faremo dei gameplay completi ecco uno di questi gameplay sarà anche dedicato a tapestry con tutte le sue con tutte le sue espansioni quindi insomma prima ovviamente raccontiamo nel dettaglio come funziona anche quest'ultima espansione che si chiama fantasies and futures e quindi non mancate ne parleremo lunedì 5 giugno ecco sempre lunedì 5 giugno cari amici per parlare per passare all'ambito videoludico dedicheremo la serata a diablo 4 cari amici ufficialmente diablo 4 esce il 6 giugno però io ho comprato appena fatto il preordine diciamo di una versione che dovrebbe farmi giocare già dal 2 almeno spero che funzioni così ok quindi se il giorno 5 sarò in grado di giocare a diablo 4 lo giocheremo assieme su twitch faremo un primo assaggio di questo nuovo capitolo della celeberrima saga di blizzard molto atteso come sapete è già stato giocato da tante persone perché in alfa beta è già stato reso accessibile se non ricordo male noi non giochiamo mai prodotti in alfa beta proprio come nostra policy giochiamo solo a giochi completi e finiti e il gioco completo è finito dovrebbe uscire il 6 per tutti e il 2 giugno invece per chi acquista appunto la versione extra lusso in preordine che io dovrei avere dovrei avere preacquistato quindi spero di il 5 giugno essere in grado di giocarci comunque ci terremo aggiornati ovviamente su questo tema se sarò in grado di giocarci il 5 giugno faremo ecco mi sa non alle 21 sapete perché perché il giorno dopo mi devo alzare all'alba ragazzi il 6 mi devo alzare alle 6 proprio di mattina ok quindi magari facciamo alle 20 e 30 vabbè giusto per avere insomma per non andare a letto tardissimo perché non ho idea adesso di quando di quanto potrebbe durare questo primo assaggio di 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 diablo però insomma un po insomma un po un po dobbiamo vedere no di questo di questo gioco di questo nuovo gioco quindi ecco il 5 giugno alle 20 20 e 30 su twitch giocheremo appunto a diablo 4 almeno questa è l'intenzione poi amici il giorno lunedì 12 giugno parleremo di un gioco che ho appena comprato a modena play che ho già intavolato tre volte eccolo qua tokaido duo ragazzi questa è una versione per due giocatori di un gioco molto celebre di tanti anni fa che si chiama appunto tokaido di antoine bosà posto che lo stia dicendo correttamente e è un gioco abbastanza semplice quindi insomma dopo tre gameplay mi sento già dopo tre giocate mi sento già abbastanza in grado di di parlarne peraltro ne farò ancora prima di girare questo video quindi il 12 giugno parleremo di tokaido 2 è un gioco a percorso potremmo dire in cui i giocatori devono muovere tre pedine in quest'isola giapponese e ogni pedina però sono tre pedine diverse ognuna si muove secondo secondo criteri diversi e fa punti in modo diverso quindi è un gioco interessante diciamo con delle idee carine al suo interno quindi ecco ne parleremo il giorno 12 giugno ok il giorno 19 giugno amici parleremo di un altro gioco in scatola ovvero legacy of you questo signore è un gioco di cui ho già fatto l'unboxing è un gioco molto interessante è un gioco per un unico giocatore cioè in realtà lo si può anche giocare cooperativo in più persone volendo però è stato concepito come un gioco per una singola persona quindi gioco solo in solitario è un gioco di gestione risorse ok molto serrato molto cattivo a suo modo che ha una sorta di modalità campagna potremmo dire cioè si svolge tramite una sorta di modalità campagna la campagna termina dopo che il giocatore ha vinto o perso credo sette partite se non ricordo male che sia sette il numero cioè o vinciamo sette partite o perdiamo sette partite e a quel punto la campagna finisce se ne vinciamo una ne perdiamo un'altra la campagna va avanti di più finché non ne abbiamo vinto o perso sette questa è l'idea e ci sono dei momenti narrativi da leggere dei momenti di testo da leggere e andando avanti fra una partita e l'altra si introducono anche delle regole nuove è un gioco molto curioso molto interessante è di sean phillips un autore che noi abbiamo amiamo moltissimo quindi si insomma non vediamo l'ora di parlarvene in realtà perché è un gioco che vi anticipo ci sta piacendo parecchio insomma quindi penso che avremo parole molto gentili per questo gioco sicuramente prima o poi arriverà anche in italiano non ho idea di quando non è ancora stato annunciato ha tanto testo quindi se non sapete l'inglese volete aspettare l'edizione 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 italiana però ecco è molto molto chiaro che facendo l'esempio di gioco qualcosa ci toccherà spoilerare quindi insomma vabbè proprio per la natura stessa del gioco no io direi che quando faremo l'esempio di gioco vi farò vedere tutta una partita le partite sono abbastanza corte no vi farò vedere tutta una prima partita che però già sbloccherà delle cose la prima partita no sbloccherà nuove regole sbloccherà elementi che all'inizio devono rimanere nascosti quindi dovrete decidere voi se vi piace l'idea di imparare a giocare però vedendo spoilerata la prima missione magari vi darò indicazioni precise sul punto in cui iniziano gli spoiler no quindi magari vedete le primissime mosse però poi abbandonate il video se non volete avere nessunissimo tipo di spoiler vabbè insomma ne ce ne occuperemo quando arriverà quando arriverà il momento quindi signori di legacy of you parleremo il giorno 19 giugno l'ultimo lunedì di giugno signori sarà il 26 giugno ci sarà un nuovo episodio della nostra celebre ormai rubrica discutiamone in cui proponiamo dei dei temi di discussione proponiamo dei temi di confronto e temi divisivi spesso temi che danno spesso vita a dibattiti anche aspre fra appassionati ecco noi proponiamo uno di questi temi diamo il nostro punto di vista sull'argomento e cerchiamo di scatenare appunto il confronto e la discussione sempre in toni civili ovviamente ed educati perché noi siamo molto civili e molto educati qui sul qui sul sul canale ok ecco di solito quando faccio questi video di in cui preannuncio il programma per il mese successivo do anche già un po un teaser diciamo di quello che sarà il tema del dell'episodio discutiamone annunciato però in questo caso non lo farò perché nel nostro gruppo telegram stiamo ancora discutendo quindi non abbiamo ancora ci sono vari temi in ballo tutti molto interessanti ci sono almeno tre temi in ballo in questo momento tutti molto interessanti però dobbiamo ancora decidere quale quale trattare se non sapete di cosa sto parlando ecco sappiate che il nostro progetto critico che è completamente indipendente quindi noi non accettiamo copie valutative per nessuna ragione al mondo ok in tutti i giochi che vedete qui sul canale sono comprati con i nostri soldi non siamo schiavi del cult of the new non ci interessa niente parlare di tutte le nuove uscite che secondo me è un la bulimia diciamo e con cui gli appassionati cercano di giocare a tutte le nuove uscite è un segno di grande immaturità del mezzo ragazzi nessun appassionato lettore di libri cerca di leggere tutti i libri pubblicati ok nessuno provate a trovarmi un lettore appassionato di che ne so di bo di gialli che cerca di leggere tutti i nuovi gialli che escono ok ho appassionato di romance che legge tutti i nuovi romance che escono nessuno si comporta in questo modo nei negli ambiti di nelle opere nell'ambito delle opere dell'ingegno mature ok nelle negli ambiti delle opere di ingegno immature ci si comporta così no si cerca di guardare tutto quello che esce leggere tutto quello che no ok noi non noi vogliamo trattare i giochi da tavolo come un me i giochi da tavolo e anche i videogiochi come un medium come dei media che sono maturi ok quindi parliamo a volte anche di prodotti che hanno anni sulle spalle perché qual è il problema perché invecchiano sono scaduti come lo yogurt quando lo dimentichi in frigo no sono se sono validi possono rimanere ancora validi qual è il problema quindi il nostro punto di vista è questo e possiamo avere questo punto di vista possiamo avere questo approccio perché siamo del tutto indipendenti da quello che ci mandano appunto le case editrici che vogliono invece che si parli delle nuove uscite ovviamente non ha nessun interesse che si che si parli di un gioco che magari non è neanche più in produzione no perché si no perché perché dovrebbero sostenerci perché parliamo di un gioco che non è neanche in produzione non avrebbe nessun senso dal punto di vista del business per loro ed è giusto così ok però secondo noi c'è bisogno anche di voci indipendenti di voci che fanno critica per per il gusto di fare critica non perché vogliono farvi vedere degli spot sui nuovi giochi o perché vogliono spiegarvi perché dovresti o non dovreste comprare un gioco noi vogliamo molto più alto di così o almeno vogliamo tentare di volare molto più alto di così e vogliamo fare appunto opere di critica più approfondita certo per riuscire ad avere una sostenibilità sul lungo periodo abbiamo bisogno di sostegno da parte del pubblico noi vogliamo che il nostro azionista sia il pubblico e come fa il pubblico a essere nostro azionista beh ci sono dei modi gratuiti quindi per esempio guardare i video mettere like condividerli ok ci sono dei modi invece anche più diretti di sostegno che sono fondamentali ragazzi non sono un così un nostro vezzo diciamo sono fondamentali e nei paesi civili quelli diciamo in cui questo punto di vista che vi ho appena spiegato è chiaro ed evidente anche al pubblico cioè il fatto che la critica indipendente deve avere come azionista il pubblico e quindi il pubblico la deve sostenere anche concretamente ecco nei paesi civili ok tutti i grandi progetti critici di successo hanno un grande supporto da parte del pubblico in termini proprio economici in termini monetari come fate a darci questo sostegno se volete darcelo avete due modi potete andare su tp ci sono vari sulla nostra pagina tp la trovate linkata qua sotto e potete trovare vari livelli di pledge oppure potete sottoscrivere un abbonamento qui al canale youtube ok e uno dei livelli di pledge su tp dà accesso a questo canale telegram dove discutiamo dove parliamo di giochi in generale e dove anche la funzione principale la funzione principale di questo canale è dibattere proprio riguardo alla rubrica discutiamone quindi scegliere i temi diciamo no ognuno di noi propone dei temi caldi interessanti e poi alla fine scegliamo quello che ci sembra più interessante in quel momento in quel momento preciso quindi ecco se volete anche voi far parte di questa squadra di brainstorming avete la possibilità andando su tp e sottoscrivendo e sottoscrivendo questi questi pledge ok uno di questi pledge bene signori quindi questa per quanto riguarda la programmazione per quanto riguarda i giochi da tavolo per quanto riguarda i videogiochi abbiamo già detto che giocheremo a diablo 4 sicuramente e lì non lo so è lì non faccio programmazione a lungo termine vedremo come funziona la prima giocata diablo 4 vediamo se ha senso continuare cioè se se è un gioco che viene sufficientemente valorizzato dalle live perché non tutti i giochi sono adatti per per le live su twitch quindi se diablo 4 lo troviamo adatto se ci divertiamo se ci piace andremo avanti magari nel frattempo continueremo anche la nostra campagna dedicata a traiano su age of empires 2 definitive edition return of rom stiamo giocando questa 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 campagna di questo strategico in tempo reale questo dlc che è stato appena pubblicato per questo famosissimo strategico in tempo reale age of empires 2 definitive edition e andremo avanti la completeremo questa campagna però appunto in giornate che decideremo man mano quindi non vi anticipo non vi anticipo quali saranno le serate in cui andremo avanti con questa campagna perché le decideremo appunto man mano anche in base a come i miei impegni di lavoro si incastrano si incastrano fra di loro perché io non ho un lavoro con degli orari precisi ho un lavoro con degli orari incasinatissimi che cambiano continuamente anche on the fly anche all'ultimo momento quindi mi devo sapere adattare ovviamente no ma questo va benissimo anzi è una delle caratteristiche che più amo del mio lavoro alcuni sono no alcuni se non hanno l'orario fisso entrano in paranoia io entrerei in paranoia se avessi l'orario fisso quindi sono molto contento di avere questi orari così anarchici diciamo nel mio nel mio lavoro e mi ci direi che ho detto tutto quello che dovevo dirvi quindi questa è la nostra programmazione per il mese di giugno mi raccomando se non siete ancora iscritti al canale questo è il momento ideale per iscrivervi perché così non perderete diciamo nessuno di questi contenuti quando verranno pubblicati se cliccate sulla campanella riceverete anche una bella notifica quando pubblicheremo nuovi video continuate a seguirci naturalmente perché oltre a questo faremo anche magari anche faremo ulteriori contenuti non lo so se ci sono nuove campagne kickstarter che vogliamo sostenere se ci arriveranno dei pacchi faremo degli unboxing quindi questo ovviamente è solo quello che possiamo prevedere ma vedremo vedremo quali saranno poi gli altri contenuti che pubblicheremo grazie mille per aver guardato questo video ci vediamo nei prossimi mesi il prossimo mese e in tutti i mesi successivi qui sulla maschera riposta ciao ciao da mosè grazie a tutti grazie a tutti